Vai! Comune come cane, casa, cavallo, tavola, sedia. Ma perché? Ci siamo mai domandati il perché? La risposta, cari fratelli, è semplice, limpida, tersa come l'acqua. Oggi molti matrimoni naufragano nella tempesta degli interessi. Oggi molti matrimoni si profondano nel paratro della reciproca incomprensione. Oggi molti matrimoni si fondano esclusivamente sulla bellezza estetica. Detto questo, fatta questa piccola performance, faccio tanti auguri a Carmela e Andrea che hanno in anteprima una piccola performance di Garletto. Auguri, felicitazioni e baci. Ciao, ciao, ciao.